Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Oggi ragazzi ci rilassiamo un pochino, è venerdì, ci prepariamo a tuffarci nel weekend E parliamo di un argomento molto caldo per chi si occupa della creazione di contenuti online Viene tutto da una domanda di voi ascoltatori, una domanda di Daniele Il quale, l'avete sentito più volte, sta esplorando il mondo della scrittura, della creazione di blog Della creazione di una professione online attraverso la pubblicazione di contenuti E espone un dubbio assolutamente interessante perché ci dà la possibilità di capire meglio Due figure professionali che vivono nel mondo digitale Prima di ascoltare la domanda di Daniele e prima di tuffarci nel mondo della creazione di contenuti online Voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove andare se volete lasciare recensioni sul podcast Se volete diventare finanziatori, se volete scoprire quali sono i link per iscrivervi Magari volete iscrivervi via iTunes o Spreaker o Telegram che è il miglior modo per rimanere in contatto Bene, è tutto lì, ci sono tutti i link, quindi potete andare su strategiadigitale.info Potete portare qualche amico, magari avete un collega appassionato di digital che non conosce ancora strategia digitale Bene, facciamo così, vi sfido, vediamo se ognuno di noi porta un amico a strategia digitale Possiamo raddoppiare dall'oggi al domani E sarebbe molto bello, sarebbe molto bello espandere questo progetto di divulgazione digitale sempre a più persone Perché si possa fare business, lavorare grazie al mondo digitale in maniera più sostenibile, più leggera e anche più consapevole Utilizzando le tecnologie per noi e non facendoci utilizzare delle tecnologie Ma bando alle ciance è arrivato il momento di ascoltare la domanda di Daniele e scoprire insieme la differenza tra blogger e web writer Una domanda, che differenza c'è tra blogger e web writer? Una cosa che non mi è mai stato chiaro, grazie Grazie a te Daniele, allora sei stato telegrafico Non ti è mai stato chiaro perché a molti non è chiaro In quanto le professioni di blogger e web writer sono professioni recenti Cioè non esistevano quando andavamo a scuola noi Quindi è normale che ci possa essere un po' di confusione In più c'è anche un altro motivo L'altro motivo è rispetto al mercato Perché molte volte vengono utilizzati i blogger come web writer O si chiamano blogger dei web writer professionisti Per capire un po' questa cosa Mi ricordo per esempio che il mio primo video su YouTube Ragazzi ho un video imbarazzantissimo Non so se mettervi il link nelle note dell'episodio No, mi sa che lo manderò solo ai fedelissimi del canale Telegram Quindi se volete vedere questo video super imbarazzante Andate su telegram.me slash strategia digitale Lo posterò lì Bene, il primo video che ho pubblicato su YouTube Avevo dei capelli, sembravo una pecora Era proprio su un web writer Un blogger professionista Che poi era diventato web writer E che grazie all'attività di blogging Si era emancipato dal suo lavoro Aveva lasciato il suo lavoro E aveva iniziato a vivere di blogging Questo l'ho pubblicato penso 15 anni fa Ora andremo a vedere bene la data su YouTube E quindi fino a 15 anni fa L'idea che una persona potesse vivere scrivendo sul web Era una cosa incredibile Vedrete in quel video come mi stupisco di questa cosa È fantastico, è eccezionale Stiamo veramente entrando nel futuro Bene, oggi ormai ci siamo abituati Perché ci sono migliaia e migliaia di persone Che vivono solamente sul mondo digitale Scrivendo, creando contenuti Quindi ci sembra del tutto normale Ma questa normalità forse ancora non è arrivata Dai nostri giovani Io per esempio ho una sorella Che sta facendo il primo anno di università E non l'ho mai sentita parlare Non l'ho mai sentita vedere come prospettiva lavorativa Un lavoro legato alla creazione di contenuti sul web Quindi ancora forse nelle scuole Questo non è arrivato E allora facciamocelo arrivare Chiarendo prima di tutto a noi stessi La differenza tra questi due ruoli diversi Due professioni diverse Cominciamo dal blogger Il blogger fondamentalmente è una persona Blogger, video blogger, podcaster Mettiamoceli dentro tutti Anche perché non restiamo focalizzati solo sul testo Perché l'unica cosa è che cambia il tipo di contenuto che crea Ma fondamentalmente è una persona che è competente in un ambito Possono essere gli ambiti più vari Io sono competente di marketing e strategia di business digitale E quindi faccio un podcast dove parlo di questo Ma non sono uno speaker professionista Non è che facevo la radio Sono uno speaker radiofonico Il mio amico Giorgio De Clessia Il creatore di radiospeaker.it Mi prende sempre in giro Perché non ho una formazione da speaker Quindi anche quando parlo come podcaster Si sente che non sono uno speaker La stessa cosa per i blog Sono un blogger Non è un professionista della scrittura Non ha imparato a scrivere Non è un giornalista Ha imparato a scrivere in maniera efficace Scrive per comunicare quello che lo appassiona O quello di cui è competente Potrei essere competente di allevamento dei cani Potrei essere competente di ingegneria Potrei essere competente di programmazione Di uncinetto Ecco, quegli stessi primi anni In cui pubblicavo il video su Leo Babauta Questo blogger Conombi Caterina Mezzapelle Caterina Mezzapelle era una ragazza siciliana Che sapeva lavorare molto bene Al punto croce o all'uncinetto Non mi ricordo Forse era l'uncinetto E aveva cominciato Aveva avviato un blog sull'uncinetto Ah no, scusa Era il punto croce Ecco Perché il suo blog si chiamava Artedelricamo.it Mi pare Bene, Caterina Giovanissima Forse era il primo anno d'università Aveva avviato questo blog Che aveva un incredibile successo Lei non era competente di scrittura Era competente di uncinetto E quello che faceva era condividere Attraverso la scrittura Al tempo il video e il podcast Non si utilizzavano ancora Non erano diffusi Youtube quasi manco esisteva Mi ricordo proprio in quei tempi Provavamo i primi video tutorial Anche lei faceva vedere Riprendendosi con il cellulare Come fare determinati ricami Bene Lei era competente Di ciò che la appassionava Non professionista della scrittura Questo che cosa potrebbe voler dire? Uè Gaudiano Ma allora i blogger Non sanno scrivere? Eh no Eh no Sì che sanno scrivere Perché lo imparano sul campo Cioè giorno dopo giorno Pubblicando ogni giorno Uno, due, tre articoli I blogger diventano capaci a scrivere Ma soprattutto ci diventano In una maniera particolare Sapete io ho fatto un master in giornalismo Sono un laureato in lettere E quindi ho tutta la mia formazione Sulla scrittura Quando sono arrivato al mondo digital Ho dovuto disimparare tutto Fare tabula rasa Di quello che avevo imparato Ho avuto due buonissimi maestri Riguardo alla scrittura online Uno era il caporedattore Della piccola redazione Del Comune di Roma E faceva il portale Del Comune di Roma Le notizie sul portale Del Comune di Roma Che mi ha insegnato A comunicare In maniera che tutti Mi potessero capire Perché quello era Un servizio pubblico Mi diceva sempre A Gaudià Se il macellaro De ostienza Non te capisce Noi non abbiamo fatto bene Il nostro lavoro Mi diceva sempre così E mi smontava Tutto il mio modo Forbito Di scrivere le news E l'altro maestro eccezionale È stato Robin Hood Anche Robin Hood Decostruiva completamente Lo stile Cioè lui orientava La scrittura Alla comprensione Da parte dell'altro Non diceva Diceva Non devi far bella figura Quando scrivi Devi assicurarti Che l'altro Abbia capito Quello che gli vuoi Trasmettere Insegnare Comunicare Quindi questo è fondamentale Si impara sul campo O almeno I blogger Imparano la scrittura Assolutamente sul campo E la raffinano Nella relazione Con i loro lettori Il blogger Solitamente Ha un proprio stile E un proprio punto di vista Quindi Il suo stile Che può essere Assolutamente particolare Pensa a me Come podcaster No Io ho il mio stile Il mio modo Di parlare Il mio modo Di costruire Il mio podcast Vai Ascoltare un altro podcast È completamente differente Se mi chiedessi Di fare un Un podcast Come Non lo so Come il collega e amico Samuel Leonelia O come Franco Solerio Di Digitalia Non ci riuscirei Perché io ho il mio stile Di podcaster Lo stesso vale per il blogger Ogni blogger Ha un suo Proprio stile E poi Fondamentalmente Scrive Il blogger Per se stesso Nel senso Il suo lavoro È il blog Il blog Costituisce Il modo in cui Monetizza La sua competenza Specifica Quindi la scrittura È il suo Posto di lavoro Non lavora Per qualcun altro Lavora per se stesso Ultima caratteristica Del blogger È che il blogger Si espone Si espone Personalmente Quando scrive Comunicando il suo Punto di vista Avendo il suo stile Ci mette in un certo senso La faccia Ci mette la faccia Questo è particolarmente evidente Quando Stiamo parlando di podcast Dove senti la voce Del podcaster È evidente Quando parliamo Di video blog Dove vedi la faccia Del video blogger Ma è evidente Anche sui blog Quindi Quando scrivi Vedi la faccia Del blogger O meglio Il grandissimo vantaggio Di un blog Il grandissimo vantaggio Per un blogger È esporsi personalmente Quindi creare una relazione Da individuo A individuo Da persona a persona Con i propri lettori Passiamo invece Al web writer Dall'altra parte Il web writer A differenza Il blogger Ha una formazione Sulla scrittura Ha una competenza Specifica sulla scrittura E anche su tutto il mondo Che ruota intorno Alla scrittura online Pensiamo al posizionamento Per i motori di ricerca Alla capacità Di creare titoli Che siano correttamente Indicizzati E posizionati Dai motori di ricerca E da google Alla capacità Di formatare Il testo In maniera corretta E in maniera leggibile Per la fruizione Da dispositivi digitali Ecco Tutte queste competenze E molte altre Che stanno intorno Alla scrittura online Sono studiate E sono parte Del bagaglio professionale Del web writer Che fa questo Come professionista Fa questo Di professione E quindi Non lo fa per sé Lo fa per altri Lo fa per chi Gli chiede di scrivere Allora io potrei essere Per esempio Un web writer E avere Il mio profilo Sul linkedin E venire contattato Da un'azienda Che mi dice Avremo bisogno Dei suoi servizi Per il nostro blog aziendale O vorremmo O vorremmo che lei Conducesse La nostra Redazione interna Che pubblica articoli Per un'iniziativa Di content marketing Ecco Il web writer Scrive Su commissione Quindi Magari Non ha un suo blog Anzi Di base Non ha un suo blog Poi ci sono Web writer Che per allenarsi Anzi Devo dire La maggior parte Hanno un loro blog Personale Sul quale si allenano A scrivere In maniera costante E al tempo stesso Lo utilizzano Come piattaforma Di content marketing Per farsi conoscere Per far vedere Ai propri clienti Quello che fanno Anche perché Molte volte Non possono esporre Far vedere Gli articoli fatti Per clienti precedenti A causa di un vincolo Di riservatezza Che hanno Quando lavorano Perché molte volte Non firmano Gli articoli Cioè Quando una società Chiama un web writer E gli commissiona La scrittura Di tre articoli A settimana Non è che poi Il web writer Firma gli articoli Perché il web writer Potrebbe anche Non essere Competente Di quell'argomento Di cui si parla Quindi Attinge alla competenza Di un altro Magari L'azienda Gli procura Un piccolo brief O gli procura Una news Dalla quale partire Per lo sviluppo Del contenuto E lui Semplicemente Scrive In maniera corretta Leggibile E comunicativa Quel contenuto Per ripubblicarlo Sul blog Dell'azienda Io stesso Ho lavorato Come web writer Ho lavorato Per esempio Mi ricordo La cosa che mi ha messo Più in difficoltà È stato un periodo Che scrivevo Articoli per un cliente Che è una grande società Che faceva sicurezza Sul lavoro Formazione per la sicurezza Sul lavoro Certificazioni Cose del genere Mi sono ritrovato A scrivere Di sicurezza Sul lavoro Ed era un universo Completamente straneo Bene Partivo dalle news E attraverso La scrittura Miglioravo La capacità comunicativa Di questi articoli Finché Il mio articolo Era molto meglio Della Notizia di partenza Un po' come fanno I giornalisti Con i lanci Di agenzia Cioè L'agenzia Ti dà Le informazioni Nude e crude Il giornalista Ci costruisce C'è il pezzo Sopra In un certo senso Potremmo dire Che il web writer È il giornalista Del web Ma non pensare Daniele Che il web writer Faccia solo news Informazioni Può scrivere Qualsiasi cosa C'è una sottile Differenza Addirittura Forse sottilissima Tra il web writer E il web copy writer Non me l'hai chiesto tu Ma ci tengo a dirlo Perché il web copy writer È quello che scrive I testi Per esempio Per le landing page O per i siti web Quindi testi di presentazione Dove Le competenze Sono più orientate Sul mondo Della pubblicità Sul mondo Della comunicazione Della promozione Il web writer È invece più orientato Sul mondo Dei contenuti Quindi in un certo senso È più giornalista Ma Te devo dire la verità Daniele Almeno nel mercato italiano C'è un grande papocchio Di miscuglio Tra web copy writer E web writer Per cui Ci sono web writer Che fanno anche Testi per siti web Che fanno Addirittura A volte Dei blogger Quando il loro blog Il loro progetto Cresce molto Chiedono a web writer Di entrare nella loro redazione Di scrivere per loro Ci sono Dei servizi Come text master Che ti danno La possibilità Di assoldare Al volo Dei web writer Per scrivere Dei contenuti Senza neanche Conoscere il nome Del web writer Quindi si ordinano I contenuti Tanto al chilo Ecco Il web writer È quello che scrive Qualsiasi cosa Sul web Qualsiasi tipo Di contenuto E a volte Diventa anche Un po' Web copy writer Perché scrive Anche il copy Per le pubblicità Per le landing page Insomma Tutti altri testi Che servono Per la comunicazione Online Il web writer Naturalmente Padroneggia Utilizza Adatta Più stili E più punti di vista Il punto di vista Cambia ogni volta A seconda del proprio cliente E quindi È molto flessibile Nel suo modo di scrivere Cioè fondamentalmente Concorda Col cliente Come deve scrivere E scrive Secondo le direttive Secondo la volontà Del suo cliente Secondo anche Il target di riferimento Ora Qual è Un altro Dei motivi di confusione L'abbiamo citato all'inizio Non solo Che è una professione nuova Un motivo di confusione È che molte aziende Hanno cominciato Ad assoldare Come Web writer Dei blogger Quindi Non sono andati A cercare Sui marketplace Sui siti Dove I web writer Si Mettono Per farsi trovare Per farsi assoldare Come freelance Ma Al contrario Hanno cominciato A contattare Dei blogger Dei blogger Chiedendogli Di scrivere Degli articoli Per il loro sito web aziendale Per il loro progetto Di content marketing Ecco per esempio Se tu dovessi fare Content marketing In teoria Ti dovresti andare A cercare Un web writer E Fargli produrre Contenuti Per la tua strategia Di content marketing Altre Alcune aziende Hanno cominciato Moltissime Anzi A contattare Blogger Perché Perché hanno contattato I blogger Allora Un motivo Fondamentale Che Dal punto di vista Stilistico I blogger Avendo imparato La comunicazione Sul campo E avendo imparato La comunicazione In relazione Con il loro pubblico Hanno uno stile Più diretto Più personale Sono capaci Di creare Una comunicazione Più calda Mediamente Poi naturalmente Ci sono dei blogger Che sono freddi Come un cubetto Di ghiaccio E dei web writer Che sono fantastici Quindi Sono ragionamenti Molto generali Ma di solito Quando uno Vuole un blogger Per esempio Mi ricordo Un progetto Fatto con Gucci Con Gucci S.p.a Per Un'iniziativa Di content marketing Loro ci chiedevano Dei blogger E noi abbiamo Integrato Nella redazione Dei blogger Cioè Delle persone Che non sapevano Scrivere Ma avevano Una competenza Specifica Per Gli articoli Nascevano Nella versione Italiana E poi Nella versione Invece In inglese C'era un Web writer Che attingeva Alla versione Italiana Per La competenza Specifica Anche un po' Per lo stile Del blogger E la trasformava Adattandola Quindi avendo Una competenza Sulla scrittura La trasformava Nella lingua inglese Riuscendo A trasformare Queste competenze E questa scrittura Che intanto Il blogger Aveva cominciato A raffinare A rendere Sempre più efficace Anche Quindi diventando Un po' Web writer Ad adattarlo Al diverso contesto Culturale Bene Quindi molte volte Blogger e web writer Possono lavorare insieme E solitamente Il blogger Appunto Ci mette più Del suo Riesce meglio A creare Engagement Attraverso Il suo stile Un secondo motivo Molto becero Vabbè Ve lo faccio dire Dal milanese E' imbruttito Va Vigodiano Molto semplicemente Il blogger Costa meno E poi io pago Ecco I blogger Molte volte sono Non essendo professionisti Non sono giornalisti Non sono esperti Di scrittura Che hanno scritto Per anni Ma magari sono Ragazzi Freelance Che hanno cominciato Con il loro blog E poi hanno detto Ma io so scrivere Ora comincio a vendere Questa competenza Anche ad altri Solitamente Costano di meno Questo va detto Ragazzi Guardiamoci in faccia Non Nascondiamo L'elefante Nella stanza Assoldare Dei blogger Soprattutto Se sono dei blogger Piccoli Quindi Dei blogger Che hanno scritto Abbastanza Da imparare a scrivere Ma non hanno scritto Abbastanza A diventare Blogger famosi Ti consentono Di ottimizzare Il tuo budget Per il tuo progetto Di content marketing E terzo motivo Ultimo Ma non per importanza Quando invece I blogger Sono famosi Ti portano visibilità Coinvolgere un blogger Addirittura Fargli firmare Gli articoli Da pubblicare Sul mio blog Per esempio Io ho un blog Di Non lo so Di macchine Sono una casa Automobilista Automobilistica Che pubblica Fa un'iniziativa Di content marketing Che è una rivista Che si chiama Going Fast Non lo so Fast and Furious È una rivista Che parla Delle macchine Dell'innovazione Legata al mondo Della mobilità Una rivista Una rivista Ecco Una rivista Vera e propria Chi andrò A coinvolgere Bene Andrò sicuramente Magari ad avere Un caporedattore Che è un web writer E Magari anche Dei web writer Di supporto Per la revisione Dei testi Per L'aggiustamento Dei titoli Ma poi Andrò a chiedere A blogger Che sono blogger Magari con la loro Piccola nicchia Appassionati A questo settore Dell'automobilismo Dell'automotive In questo modo Vado a coinvolgere Il blogger Gli faccio firmare L'articolo Ma coinvolgo Anche la sua community Perché lui Magari racconterà Che sta scrivendo Articoli Per la rivista Taldeitale Quindi mi porto Il vantaggio Della visibilità Insieme al vantaggio Della produzione Di contenuti Vera e propria Quindi fondamentalmente Questo è il motivo Per cui si è fatto Si è mischiato Un pochino Il mio consiglio È conoscere Queste due figure Come due figure Distinte Anche quando fate Recruiting Quando guardate In giro Per comporre Per creare Il vostro team Per il content marketing Fare recruiting Su tutti i settori Su entrambi i settori Magari facendo lavorare A stretto contatto Blogger E web writer Perché ognuno Possa dare Nel progetto specifico Il meglio di sé Siamo arrivati Alla fine Della nostra puntata E allora è arrivato Il momento Di ringraziare I nostri produttori Chi sono i produttori Di strategia digitale Siete voi ascoltatori Voi ascoltatori Che avete scelto Di finanziare Questo progetto E quindi di passare Da ascoltatori A produttori E entrare A pieno titolo Nel team Di strategia digitale Comincio A ringraziarvi Dai miei compagni Di digital mastermind Quindi Marzia Tomasin Francesca Traverso Paolo Pugni Daniele Besana Fabrizio Guidi Odra Bertolone E poi Gli altri produttori Roberto Andreoni Niccolò Ravanelli Federico Izzi Enrico Girotti Vittorio Neri Andrea Della Via Fulvio Giulita Agata Amato Franco Nicosia Pietro Leoni Jacopo Livia Lorenzo Polacco Antonino Cotroneo Paolo Gollo Massimiliano Berto Rosario Rizzo Stefano 2.0 Erika Vagliengo Silvia Zeta Mariano Lampis Gianluca Gorlani Mauro Arizzo Rodolfo Monacelli Max Saggia Piccole di Pillole di tecnologia Scusami Antonio Marco Bazzo Daniele Risi E altri finanziatori Che con un euro Un dollaro al mese Finanziano strategia digitale Potete scegliere voi Quanto con un dollaro Tre dollari Cinque Dieci Ogni finanziamento Porta con sé Dei rewards Dei premi Delle cose che ho voluto Riservare per voi Per ringraziarvi Dimostrarvi concretamente Oltre al grazie Che accompagna Il vostro finanziamento Anche concretamente Dimostrarvi quanto è importante Per noi sapere Che ci siete Che sostenete Questo progetto Di divulgazione digitale Allora Se non sei ancora produttore Regalati La possibilità Di far parte Di questo progetto Vai su Youmediaweb.com Slash Finanzia Oppure su StrategiaDigitale.info E troverai addirittura Il video tutorial Che ti spiega Come diventare produttore Per oggi è tutto Non mi resta Che ringraziare Anche Sara Veltrico Autrice del programma Il nostro Fantastico fonico Anzi La nostra fantastica fonica Costanza Mineo E Radiospeaker.it Curatore del nostro Sound Design Grazie mille Strategia digitale Idee, novità e consigli Per imprenditori E professionisti Appassionati di web marketing E business online E business online A cura di Giulio Gaudiano